Ho con me questo Chromebook Plus di HP da oltre un mese e ho un po' di pensieri al riguardo che voglio condividere con voi, pensieri contrastanti. Vi spiego, però mi raccomando ve lo dico ora sennò poi me ne dimentico, se il video vi fosse piaciuto alla fine lasciate un like e iscrivetevi al canale, almeno sappiamo che vi piacciono questo tipo di contenuti, ci supportate e siamo tutti contenti. E adesso cominciamo. Allora i Chromebook Plus sono quelli che rispondono a dei requisiti hardware particolari, cioè devono avere un certo quantitativo di memoria, devono avere almeno un certo tipo di processore, come dire per avere quell'esperienza Chromebook Plus elevata rispetto a quelli effettivamente di fascia bassissima a cui magari siamo abituati intorno ai 200-250 euro. Qui siamo al momento circa sui 420 euro, che se ci pensate bene è praticamente il doppio rispetto a un Chromebook tradizionale. E questo già è una prima differenza importante. Va da sé che ovviamente l'esperienza d'uso è effettivamente di grado superiore, cioè non è facile, non era facile fino ad ora trovare dei Chromebook così performanti. Siamo comunque intorno ai 400 euro. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questo computer qui è fatto tutto in plastica, vuol dire che flette se lo torcete, vuol dire che la base di appoggio della tastiera a sua volta sembra che sia un materasso a molle. Insomma, non potete pretendere la qualità costruttiva che avreste su portateli di fascia più alta, perché siamo comunque in una fascia medio-bassa ancora. E ovviamente qui, siccome i produttori di Chromebook Plus devono rispondere a dei requisiti hardware interni più stringenti, quelli diciamo esterni sono la prima cosa che viene un pochino trascurata. E non potrebbe essere altrimenti, del resto se anche prendete un notebook con Windows in questa fascia di prezzo, non è che avrete tra le mani un portatile tutto metallo-granitico, avrete appunto plastica come qui, ci sarà magari qualche scricchio lì alla torsione. Insomma, non possiamo pretendere più di tanto dal lato costruttivo. Peccato che in questo modello in particolare, che ha anche una tastiera molto ampia con tastierino numerico, tutto ciò si va da ripercuotere negativamente anche sulla tastiera, che appunto, come accennavo prima, ha una base piuttosto fluttuante e nello scrivere non è il massimo del piacevole. Forse, forse, rinunciando magari al tastierino numerico si poteva avere qualche cosa di un attimino migliore, a vantaggio appunto della rigidità del resto della struttura, ma questo insomma non lo sapremo mai. Il touchpad in compenso è decentrato, quindi non tiene conto, diciamo, della presenza del tastierino numerico, si sposta laddove c'è la tastiera, questo vuol dire che non lo andrete a coprire con i polsi mentre state scrivendo. Anche lui non è il massimo della precisione, a volte tende un po' all'overscrolling, però comunque nel complesso, insomma, rintra nella qualità generale di un prodotto di questa fascia di prezzo. Non fraintendetemi, non voglio sembrare troppo negativo, è che magari la dicitura stessa Chromebook Plus fa pensare a qualcosa di più. Siamo comunque sulla fascia medio-bassa del mercato, quella nella quale i produttori trascurano prima di tutto, diciamo, l'aspetto costruttivo per cercare di spingere magari un pochino di più sull'hardware proprio per non regalarvi un'esperienza d'uso che sia quella bassissima. E qui ci siamo perché effettivamente la prima impressione che dà di utilizzo, soprattutto in navigazione, è veramente molto, molto rapida. Cioè sembra quasi di avere a che fare con un notebook di fascia decisamente superiore, perché qui in pratica avete un sistema che è incentrato su Chrome e quindi dà il meglio della navigazione stessa appunto col browser di Google. Le pagine si aprono velocemente, lo scrolling è fluido e in generale l'impressione è quella appunto di avere tra le mani un notebook di fascia più alta. Sebbene poi, quando andate ad aumentare il numero di schede aperte, quando magari queste schede non sono semplicemente siti statici, ma hanno video in riproduzione o altri contenuti un pochino più pesanti, beh, allora lì si incomincia comunque a vedere che non siamo su un hardware di fascia alta. Diciamo che l'impressione generica è quella di un notebook molto veloce, quando lo andate in qualche modo a mettere un pochino più sotto torchio, vi accorgete che comunque siamo nella fascia di prezzo in cui siamo, logicamente. Ora io vi ho parlato di hardware ma senza darvi un po' delle coordinate precise. Questo qui è un 15,6 pollici Full HD con processore Intel Core i3-N305, 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di archiviazione di tipo UFS. Quindi non sono le vecchissime e lentissime MMC che spesso erano un bel collo di bottiglia anche nei portatili, nei Chromebook di fascia più bassa, ma non è nemmeno un SSD. E siamo comunque sui 420 euro. Sempre su questa cifra, se andiamo a vedere proprio su Amazon dove appunto si trova questo Chromebook di HP, troviamo sempre di HP, proprio per rimanere sullo stesso brand in modo da avere un paragone più diretto, dei portatili che magari con 10 euro in più vi offrono il doppio dello spazio di archiviazione con SSD e un Ryzen 5 5625U oppure un Core i3-11-15G4. Insomma, come dire, ci sono delle alternative Windows allo stesso prezzo praticamente che dal punto di vista hardware sono assolutamente paragonabili se non migliori. A quel punto uno potrebbe stare a dire giustamente che Windows è un sistema più pesante e che quindi le prestazioni saranno peggiori. Ed è magari vero, però non sono del tutto sicuro che siamo ancora a quel livello nel quale si possa spaccare il capello alle performance, perché siamo comunque, ve l'ho già ripetuto più volte, su una fascia medio-bassa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che a un certo punto magari il portatile con Windows sarà un pochino più appesantito, però avrà anche molte più applicazioni, avrà bene o male tutte quelle applicazioni che vi possono tornare utili. Di là c'è Chrome OS, che se si parla di navigazione, ok, non vi dà assolutamente problemi, ma se usciamo da quel seminato lì, beh, non è sempre tutto così scontato. Qualcuno mi dirà, ci sono le app Android. È vero, però vi faccio un esempio abbastanza secondo me emblematico, che mi è saltato subito all'occhio perché è un'app che uso tutti i giorni, per esempio Telegram. Telegram su Windows, ma anche su Mac OS, ha la sua applicazione dedicata. Qui passate per l'applicazione Android e si capisce subito che è un'app pensata per smartphone e non per uno schermo grande in 16 noni come questo. Perché? Perché se per esempio voi andate a premere sulle emoji, le emoji si aprono in basso, vedete, in un'unica riga non le potete alzare in nessun modo ed è anche scomoda poi da scorrerla. Certo, nel momento in cui la scorrete, alla fin fine le righe diventano tre, ma rimane il fatto che su Windows e su Mac OS li avete in una barra laterale che è ben più comoda da consultare e che potete tenere per esempio sempre lì, mentre qua invece sono a scomparsa. Oppure, per esempio, se volete fare un banalissimo, almeno negli altri sistemi operativi, drag and drop, per esempio dal gestore di file su Telegram, questo non è supportato perché è l'app di Telegram per smartphone, che evidentemente non supporta il drag and drop di contenuti da un'altra applicazione o non lo supporta dal file manager di Chrome. Oppure ancora, se voi scrivete un messaggio, cosa vi viene naturale di fare per inviarlo? Premere invio. Ma qui invece con invio andate a capo perché è come se premeste sulla tastiera del vostro telefono. È una cosa che poi si può andare a cambiare, però è giusto per dirvi che comunque è quell'esperienza pari pari che avreste su smartphone e che non per forza di cose si adatta ad un sistema che invece ha un'ottica desktop. E come Telegram, anche bene o male tutte le altre applicazioni Android, sono prima di tutto pensate per telefono. Quindi non è detto che in un'ottica di utilizzo desktop abbiate tutte quelle comodità alle quali magari un desktop vi farebbe pensare. Insomma, alla luce anche di quanto dicevo prima sul prezzo, il mio punto di vista è questo. Se scegliete un Chromebook perché volete risparmiare, non è questo il modello adatto perché comunque i Chromebook Plus costano un po' di più. Per di più, i Chromebook più economici effettivamente surclassano abbastanza nell'esperienza d'uso, che ribadisco è principalmente quella di navigazione, gli equivalenti Windows perché quando siamo sulla fascia dei 200€ l'hardware è davvero basso, lì si vede effettivamente il fatto che Chrome OS è un sistema che bene o male è un browser cucito proprio a misura di quello e quindi nella navigazione riesce a regalarvi qualcosa in più rispetto agli equivalenti Windows per non parlare poi dei Mac che nemmeno esistono in quella fascia di prezzo. Se ci spostiamo però sui 400€ abbiamo visto che di alternative in fondo ce ne sono e la differenza di prestazioni a questo punto, che siete passati alle SSD rispetto alle MMC, non è così drastica, non è così elevata come avevate invece nella fascia dei 200€ e per di più con sistemi di tipo Windows non si pone minimamente alcun problema software, cioè tutto quello che vi può servire è anche di più. E quindi non lo so appunto, dovete proprio volerlo un Chromebook e se lo volete per carità va benissimo, è una delle migliori esperienze Chromebook quantomeno a livello di performance perché poi il guscio come abbiamo visto rimane quello che è che possiate avere, però dovete appunto come dire essere già utenti Chrome OS, dovete averlo già conosciuto in qualche modo, probabilmente perché avete appunto preso uno dei modelli più economici a cui accennavo prima perché altrimenti per un uso generico è più difficile consigliarlo perché nel momento in cui comunque uscite dal binario di Chrome vi andate a scontrare con una serie di cose che non è detto che siano proprio la migliore esperienza possibile. Ci sono modi per ovviare alla mancanza dei software, per esempio ricorrere al cloud, ma il cloud è diciamo una motivazione che va bene per qualunque sistema operativo. Cioè non potete dire io uso Photoshop nel cloud anche se non c'è l'app per Chrome OS perché allora lo posso usare anche su Windows Photoshop nel cloud o su Mac OS o su quello che volete. Quindi gli utenti Chrome OS affezionati hanno adesso una scelta in più per avere quelle prestazioni in più che magari volevano e delle quali hanno bisogno. Gli utenti Chrome OS non affezionati, beh, secondo me fanno bene prima ad affezionarci sia altrove e poi magari a passare ad una cosa del genere. Ditemi anche voi un po' nei commenti come la vedete. Da una parte, come dire, è bene che Google abbia esplorato anche soluzioni come questa, dall'altra mi verrebbe da dire che comunque è difficile che ormai nel 2024 Chrome OS riesca ad uscire un po' da quella nicchia che giustamente si è creato di studenti, di chi abbia esigenze di computing piuttosto basilari anche con un hardware più pompato. O almeno io la vedo così. Voi facetemi sapere appunto nei commenti che cosa ne pensate, avremo modo comunque di seguire l'evoluzione di Chrome OS come sempre su smartword.it. Da parte mia come sempre un saluto e alla prossima!